Da ariana ai Balcani, dal Libano al Medio Oriente, fino alle acque del Mediterraneo e dell'Oceano Indiano, ai cieli del Nord Europa, oltre al fianco orientale dell'Europa, le grandi aree del mondo. Si tratta di operazioni nelle quali le forze armate, le forze armate del sistema paese e nelle quali contingenti delle forze cooperano con le missioni di rappresentanza climatica, le componenti dei servizi di informazione, la polizia di Stato, la guardia di finanza, i corpi absiliari e il personale civile della cooperazione e delle organizzazioni non governative. Un impegno corale che rappresenta la risposta più efficace alla complessità delle situazioni in atto. La partecipazione dell'Italia, come costante dei suoi uomini e donne, può considerarsi protagonista nei moderni scenari internazionali e proprio per sottolineare questa attiva partecipazione vedremo oggi sfidare il tema scelto per questa edizione è a difesa della Repubblica, al servizio del Paese. Un tema, quello individuato quest'anno, che evidenzia l'assoluta centralità. Grazie!